salve sono diana jakey sono autrice di libri e canzoni per bambini sono una musicista e sono fondatrice di key music method benvenuti e grazie di aver deciso di passare qualche minuto con noi per conoscerci meglio se anche voi credete nell'importanza dell'educazione musicale ma non sapete come realizzare un progetto di musica oppure non avete le risorse economiche per farlo vi farò conoscere un metodo non soltanto veloce efficace multidisciplinare per insegnare musica ma soprattutto un progetto che potete realizzare nelle vostre scuole anche gratuitamente il lavoro dell'insegnante è uno dei più difficili e travolgenti che esista negli ultimi 13 anni ho potuto lavorare con decine di insegnanti che giorno dopo giorno danno 100 per cento di se stessi per preparare i loro allievi le scuole aumentano continuamente le loro richieste ed è difficile trovare dei corsi extracurriculari in grado di inserirsi nel programma già esistente della scuola questo è uno dei motivi per cui ho creato per un amico il corso di musica basato su key music method che unisce letteratura disegno e musica lo spirito di solidarietà e non insegna solamente le basi musicali al canto ma soprattutto la comunicazione emotiva le scuole che decidono di realizzare per un amico riceveranno perciò un corso di musica per bambini realizzato da uno dei nostri esperti un corso di formazione per gli insegnanti disponibile online e la possibilità di far partecipare i loro allievi al progetto omonimo di beneficenza dedicando tutto il lavoro realizzato durante il progetto per un amico ai bambini che si trovano negli ospedali oncologici tutti i bambini senza nessuna distinzione meritano la nostra massima attenzione ed impegno donare agli altri ci rende felici e vorremmo che anche i bambini conoscessero questa sensazione grazie di essere stati qui con noi prendetevi cura di voi dei vostri bambini così il mondo sarà ancora più bello di quanto non lo sia già grazie a tutti grazie grazie